Io se non dovessi fare più Domenica In, vorrei fare un programma divertente con la Maionchi, andare in giro come quello che fa con la Letta Berchi, cioè mi voglio divertire, cioè io vorrei fare la pazza, capito, divertirmi, fare una Thelma e Luisa, non so, ad esempio con Maria, cioè voglio dire, mi piacerebbe spaziare in tutt'altra zona, ecco, Domenica lei è il massimo secondo me che un conduttore possa avere, è vero c'è Sanremo, ma Domenica In è il cuore degli italiani, non c'è niente da fare ragazzi, per cui che posso volere di più? Un programma folle, quello sì, mi piacerebbe molto.